Il picnic, stasera alle ore 21, sono qui su questa bella sdraio a fare il picnic, per ora non ci sono le zanziale, ma sono una bella città, la mia città, la mia città come si vede dai grattacieli. Milano, la punta dell'Unicredit, sono qui ai giardini della biblioteca degli alberi a fare questo bel picnic, oggi ho fatto il picnic al bosco orizzontale di Laveno, stasera faccio il picnic al bosco verticale di Milano, sì sono qua, sono qua, sto aspettando la sera che venga buio per far che tutto si illumini intorno a me, crei l'ambiente cittadino metropolitano notturno, ecco sono qui, sì sì sto bene, sto benissimo, oggi ho fatto tanto, sono andato in bus, sono andato in trena, tante cose ho fatto, tanti paesi, Caldella, Veno, Porta Valtravaglia, Lago Maggiore, mi sono divertito, viaggiare di qua e di là, mi sono fermato sotto i ponti, e si può dire che non sono un pappamola, pappamola come alcuni miei amici che sono tutto il giorno nella stessa zona, come pensionati si può dire, io ho pieno di vita, solo vedere queste belle luci che si accendono adesso mi danno un altro senso di luce notturna, dove io posso vivere e nel frattempo faccio questo bel picnic, vi saluto dal viandante girovago anche delle metropolitane notturne, Aldo.